Francesco Pannofino, buona serata intanto, un europeo straordinario, Nero Wolf, il concertone, oggi ci troviamo qui a Rieti nell'ambito del peperoncino, quindi il tuo rapporto intanto col peperoncino, questa spezia straordinaria? Buono, nel senso che lo uso sia quando cucino, che mi piace anche nelle pietanze, in alcuni primi è fondamentale, ma poi insomma ha diverse possibilità di utilizzo, quindi mi è anche piaciuto molto vedere questa grande, enorme varietà di peperoncini del mondo che io ignoravo sinceramente, però insomma sono contento che ci sia questa cultura. Il mondo dei doppiatori, sappiamo che sei la voce di Clu, lo sanno tutti, gli italiani ti vogliono bene, ti seguono, il mondo dei doppiatori, sappiamo che siamo i primi della classe molto probabilmente al mondo, è un lavoro da certi punti di vista apparentemente sommerso ma è importantissimo. Beh, sì, è un lavoro, è un trucco cinematografico che permette di vedere il film in italiano, questo trucco diciamo che noi in Italia lo sappiamo fare abbastanza bene, a detta dei tutti, basta andare a guardare i film americani, il doppiato in spagnolo, in tedesco o in francese per accorgersi che l'italiano riesce a mettersi più a disposizione dell'attore americano, lo fai conto, e quindi c'è una bella tradizione. Il tuo rapporto con la cucina e le cucine, qual è il tuo territorio, i tuoi sapori, i tuoi ricordi? Beh, diciamo che i ricordi appartengono all'infanzia e quindi alla cucina della mamma, siccome mamma è pugliese, che è un'ottima cuoca peraltro, lei insomma ha orecchiette al sugo di carne o alle cime di rape, questi sono i piatti diciamo che sono più nella mia mente, però insomma ce ne sono anche tanti altri e poi anche giù in Puglia si fa molto uso di peperoncino come tutto il sud d'altronde. Otto finalisti questa sera nel concorso dedicato appunto al peperoncino, ai piatti a base di peperoncino, quali saranno le tue valutazioni, i tuoi parametri al di là di quelli tecnici strettamente legati al concorso? Cosa guarderai? Io non essendo un tecnico conosco sommariamente un po' le qualità e la storia del peperoncino, naturalmente mi baso sul mio gusto, su quello che... no perché sono del parere anche che il peperoncino non deve uccidere i gusti, no perché essendo piccante invece bisogna saperlo usare con moderazione e con intelligenza. Francesco un saluto agli amici di Punto Radio Network, la radio fondata dal mitico Vasco, lascio a te il microfono per un saluto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Punto Radio Network e ciao Vasco, già che ci sono saluto anche il grande Vasco Rossi. Grazie.